Il territorio di Caronia ha pagato un prezzo altissimo in passato a causa degli incendi con il fuoco che ha minacciato tutto il costone alla base del paese e lo ha pagato anche di recente con danni all'impianto idrico ad alcune abitazioni. I danni sono ancora da quantificare ed in attesa che questo avvenga il sindaco Giuseppe Cuffari auspica un cambio di marcia, un'inversione di tendenza, perché se puntualmente il fuoco devassa il territorio e questo accade da tempo bisogna modificare qualcosa, occorrono uomini e prevenzione. La Caronia purtroppo ha pagato un dazio elevato anche a causa della sua estensione territoriale in un paese praticamente sconfinato. Allora intanto sono convinto, vorrei fare una premessa non per essere polemico, se la regione Sicilia e comunque anche lo Stato centrale non si mettono in testa di affrontare il fenomeno in maniera seria con delle riforme serie di prevenzione, probabilmente anche in maniera diversa e soprattutto in maniera diversa, noi il problema lo rimanderemo con un problema e una preoccupazione che in questo momento particolare in qualche modo siamo riusciti a tamponare grazie alle centinaia di persone che si sono attivate. Noi abbiamo avuto un incendio serio a fine settembre che ha distrutto fortunatamente in una zona extraurbana una conduttura del sebratoio idrico comunale che da Contrada Canneto porta l'acqua in Contrada Piana, abbiamo avuto ingenti danni e soprattutto quello del 20 e il 21 nella Contrada Badetta, Furiano e Torre dell'Auro che ha danneggiato seriamente un'abitazione di una signora dove siamo stati costretti a mettere un'ordinanza di sgombro e sono in corso il censimento di danni perché non è da escludere che ci siano anche altre abitazioni coi molte. Quindi la situazione è molto seria, molto pericolosa e ripeto senza un intervento normativo serio si avranno grossi problemi perché quello che chiedo io e che mi sono confrontato anche con altri colleghi che ci hanno dato una grossa mano d'aiuto sia il sindaco di Acquedolci che quello di Santo Stefano essendo confinanti hanno mandato mezzi e uomini quindi volevo ringraziare anche tutti quelli che sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato, la forestale, i vigili del fuoco e tutti i gruppi di volontari associati come le associazioni di volontariato e singoli cittadini. La protezione civile ci ha seguito durante tutto l'iter dell'incendio però non è questo il problema perché ogni volta che c'è un'allerta incendio o un'allerta scirocco non è possibile che sistematicamente ci sono incendi che scoppiano puntualmente in diverse località della Sicilia mettendoli solo in ginocchio. Quindi a mio avviso va fatta una campagna di prevenzione prima e con degli strumenti normativi diversi da quelli che abbiamo ora perché attualmente ci sono un sacco di terreni incolti ormai a causa dell'abbandono delle proprietà quindi la vegetazione è praticamente incontrollata. Tenete a mente che io nel mio comune ho soltanto un operaio comunale quindi con un operaio ho grossissime difficoltà quindi non solo gli enti locali sono prive di personale non ci sono strumenti normativi e legislativi adeguati per poter far fronte a questo problema che si può risolvere solo con la prevenzione. Un bilancio dei danni l'ha già fatto o lo deve fare? È in corso la quantificazione dei danni perché lunedì proprio lunedì hanno fatto un sopralluogo congiunto il responsabile dell'area tecnica con un istruttore del comune e la protezione civile. Abbiamo fatto un avviso che all'albo online del comune dove chiediamo proprio per i problemi che le dicevo io l'eseguità del personale e la sconfinatezza del nostro territorio chiediamo a chiunque ha subito dei danni di compilare il questionario che trovano all'albo online di segnalarlo e così in modo da portarci a conoscenza dei danni. Quando finirà la fase del censimento generale saremo in grado di capire di che cifre e di che entità di danni stiamo parlando. Grazie.